e qui li vedi anche rappresentati, ecco, questa è la came, questa è di nuovo Checco la came è qui la came è tornata nel taccuino di Michele ecco, lì ci sono tutti e tre, Checco, la came e Michele diciamo che siamo un po' autoreferenziali ma no, era la situazione che poi alla fine ha generato questo gigantesco selfie Certo, è vero, è divertente